Salmo 74, versetto 10 Fino a quando Dio ci oltragerà l'avversario, il nemico disprezzerà il tuo nome per sempre? Guardandoci intorno possiamo vedere come la moralità si sia veramente abbassati i principi. Anche semplicemente ciò che riguarda un uomo e una donna, due amici. Viene tutto sconvolto, ognuno pensa solo a se stesso, ai soldi, la radice di ogni male. Ma fino a quando l'avversario si innalzerà e farà del male continuamente a tutto ciò che risiede sulla terra? Signore vogliamo chiederti di pari consentimento che tu possa mandare un risveglio prima di tutto nelle anime nostre e poi per conquistare quelli che sono attorno, che non ti conoscono, una nuova Pentecoste che riporti all'origine, allo zelo, al primo amore dell'opera tua. Signore dove i segni accompagnano i tuoi figliuoli e la tua parola taglia in profondità, cambiando centinaia di anime. Fai una raccolta, Signore, fino a quando. Ma il nostro tempo di consacrazione dov'è? Dov'è il nostro desiderio di vedere questo Dio all'opera? O ci stiamo facendo assorbire dal nostro modo di vivere uguale al mondo invece di uscirne e potere consacrarci a Dio? Signore facci riflettere e insegnaci la cosa giusta, un nuovo vigore. Il Signore ci benedica.